Oh, stai a piedi! Eh, dagliela lui! Magari, eh, qui ci siamo! Arriba! Ragazzi, siamo un po' molli, eh! Vi chiedo un po' molli! Dai, io che culo, porco zio, però! E vira! Che riparto con le aria! Non si possono sfiorare! Sto coprendo con un giocatore di uno 90! È giusto! Raffae cerca di coprire, ma poi partire come un missile e viene portato! Mamma mia! Oddio 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 mamma mia!